bella a tutti ragazzi clash royale xyuderone ancora oggi qua con voi voglio farvi vedere un nuovo deck che ho scoperto essere davvero fortissimo e che ci fa vedere nuove carte che ancora non abbiamo mai utilizzato nei nostri video precedenti nei deck precedenti oggi si usa una combo interessante la strega con la fuorilegge e i nostri spaccamuro una carta veramente fantastica quella degli spaccamuro una carta molto utilizzata soprattutto per obbligare l'avversario ad andare a difendere qualora noi riusciamo a fare un attacco su una torre e quindi con solo due di elisir spingere sull'altra non perdiamo tempo vediamolo direttamente in arena bartizi dei polish empire possiamo partire anche morbidi e come vedete ci sono ovviamente le altre carte che completano il deck il miner il gran cavaliere lui gioca invece un principe nero in realtà già la strega è ottima per counterarlo perché utilizzando gli scherzo attenzione andiamo adesso con il gran cavaliere la fuorilegge che con la carica può andare subito su uno dei tre moschettieri carta veramente devastante quella dei tre moschettieri che riesce senza nessun senza nessuna difficoltà ad andare a counterare dobbiamo utilizzare in questo momento in realtà la nostra la nostra torre per andare a colpire anche il moschettiere rimasto 1414 comunque come avete visto la sua torre di destra messa male anche la mia di sinistra 1532 strega spona subito gli scheletrini rispona subito gli scheletrini perfetto lui va a zappare ma comunque non arriva la carica del principe strega che counter insieme alla torre del principe siamo sotto ancora di uno attenzione perché adesso lui giocherà sicuramente questo non me lo aspettavo subito miner fuorilegge così 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 vai ha sbagliato ha misclicato ha misclicato ha misclicato il miner può andare a colpire peccato che la torre è riuscito da sola a farsi la mia fuorilegge va bene non è un problema utilizziamo ancora purtroppo non andrebbero giocati così ma dobbiamo fermare il suo attacco riproviamo no non riproviamo l'attacco lui adesso è forte del dell'elisir raddoppiato con il pump con l'elixir pump attenzione perché andrà sicuramente con una zap invece no lascia lascia che sia il principe nero ad occuparsi della situazione e siamo obbligati a fare un'unica mossa qui che è questa il miner sul suo estrattore di elisir a sarebbe dovuto andare sull'altro in realtà andiamo a fare un attimino vediamo cosa succede se riusciamo un attimo a fermare il suo attacco devastante mi serve un miner super corto pronto anche il gran cavaliere ah peccato che è riuscito a colpire anche l'attore lui ha giù tre elisir pump o sfruttiamo adesso la situazione non la sfruttiamo più e qui la situazione potrebbe complicarsi super rapida andiamo a zappare bom bom bellissimo ah il gran cavaliere vediamo se riesce a tirare almeno una hit 110 è molto interessante questa cosa urco giuda mi ero completamente perso il suo moschettiere che mi era sfuggito diciamo comunque con il miner ad andare a pareggiare i conti la situazione non è assolutamente facile adesso fuori legge dietro strega per counter attenzione i tre moschettiere che potrebbero essere giocati centrali in qualsiasi momento lui sta giocando una barca di estrattori sono pronto lo so che non li gioca centrali invece attenzione quindi vediamo di andare a togliere intanto il primo estrattore di elisir un moschettiere che lo ha già alloccato fuori legge insieme ai pipistrelli possiamo andare di nuovo a counterare un pochettino ripartiamo 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 miner altissimo qui attenzione perché potrebbe essere devastante per lui questo attacco attenzione perché potrebbe essere molto interessante questo attacco andiamo a zappare almeno togliere i suoi pipistrelli aspettiamo di riottenere il nostro gran cavaliere lui potrebbe giocare davvero il trucco dei tre moschettieri no non lo fa non lo fa non lo fa ok 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 l'importante è che non va a loccare andiamo a fermare qui i moschettieri pronti con lo spaccamuro miner di nuovo e stiamo ripartendo pipistrelli andiamo a togliere un attimo andiamo a togliere un attimo fuori legge di nuovo spaccamuro di nuovo stiamo ribaltando la situazione miner guardate che attacchi guardate che attacchi incredibili guardate che attacchi incredibili mamma mia abbiamo completamente ribaltato la situazione iniziando a spingere nonostante lui avesse giocato tre strattori di elisir era riuscito ad avere tre strattori di elisir contemporaneamente incredibile molto bello questo deck molto molto bello passiamo subito un attacco apriamo noi contro kusi di torque o basi che sembra non difendere neanche allora noi spingiamo allora noi spingiamo non ci facciamo di certo intimidire no mercy for no one no mercy for no one dentro 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 e giù anche a torre numero due o meglio a torre numero uno forza parile barbarico vorrei che la mia strega rimanesse dietro spaccamuro ancora che mi possono aiutare finché la strega spona i suoi scheletrini e riusciamo a mantenere solido l'attacco non c'è nessun problema ed infatti senza difficoltà andiamo a chiudere con il miner questa partita ovviamente free avete visto ragazzi la combo miner spaccamuro questa utilizzatela e provatela se se per caso ce l'avete avanti 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 contro william patty dei 403 verbo di si può provare un'altra combo e minor pipistrelli vediamo come va a giocarsela lui le stagli contro me cascarlo potrebbero mangiarselo parte con il miner perfetto non ha impattato andiamo a spingere ancora sulla destra con gli spaccamuro obblighiamolo 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 a fare qualcosa non è lisir bam bam fanno troppo male fireball fireball incredibile secondo me lo stiamo mettendo abbastanza sotto io spingerei sinceramente io spingerei sinceramente il mago elettrico non facciamo nulla non facciamo nulla non dovrebbe andare a loccare il miner è troppo indietro è troppo indietro infatti perfetto miner che gli sta mangiando letteralmente a colpi di vanga la torre di sinistra guarda che meraviglia guarda che meraviglia ragazzi deck davvero super interessante intanto mi raccomando è lasciate un bel pollicione ragazzi se vi piacciono i miei video di clash royale un bel like dai non vi costa niente e un commento qui sotto soprattutto un commento sul deck vi piace vi siete trovati scrivetemelo io li leggo in live tra una partita e l'altra di fortnite continuiamo comunque a spingere fuori legge deve sempre essere giocata per caricare attenzione è molto molto pericolosa la situazione lui avrebbe intenzione di entrare con il principe diciamo ad alzare un pochettino i pipistrelli e quindi a evitare anche la carica di nuovo a spingere con gli spaccamuro ogni volta che li abbiamo gli andiamo a giocare riesce a fermarne uno ma non due bellissima intanto la hit dello spaccamuro sulla torre di destra lasciamo entrare il mega sgherro ci pensa la torre recuperiamo il esir e andiamo nell'overtime o meglio andiamo nel per due fuori legge minor altissimo questo minor 1 l'importante che gli faccia un po di danni i cosiddetti chip damage non stare attenti adesso è qui che si gioca tutto il tutto per tutto sono pochettino lui secondo me esagerato forza 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 difendere 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 bellissimo la fuori legge che è andato a togliere il minor possiamo addirittura noi ripreparare un attacco con tutto guardate che roba guardate che roba è obbligato ad andare con la fireball minor di nuovo altissimo fuori legge che va a locare il suo principe nero non ha più elisir let's go non ha più elisir tanta 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 roba facciamo l'ultimo game e vediamo come va mamma mia che devasto questo deck contro b ben dei di balls rogues attenzione spingiamo minor fuori legge ancora è riuscito a tirare è stato obbligato di nuovo anche lui a utilizzare una fireball io continui a spingere continui a spingere se ne abbiamo ok abbiamo fatto male però ha fatto più male lui col barile è qui è molto bravo andiamo a counterare il barile rossa giocato perfetto questo questo barbaro andiamo di nuovo l'attacco minor e spacca muro il barile ce l'ha anche lui riesce a counterare tutto quanto princess e qui abbiamo comunque l'aiuto dei pipistrelli allora lui al barile barbarico questo è un problema dobbiamo giocare in questo modo non pensavo che facciasse un passo avanti non è non è importante fuori legge che va sul lo spiritello andiamo di nuovo con il bar il perfetto perfetto questo bar e spingiamo con il pacca muro vai 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 fa niente non deve avere tempo di di capire bravo barile anche per lui è una partita molto più giocata questa ok aspettiamo che la princess l'occhi e poi cerchiamo un minor cortissimo non ce lo faremo stiamo giocando troppo veloci tutti e due non riusciamo a tenere bene gli elisir bellissima questa fireball che in realtà è andata in predict perché pensavo che giocassi il minor sulla sinistra invece glielo giocato in avanti alla differenza è che io le sue due torri abbastanza danneggiate 1805 2054 la mia torre in basso a sinistra è l'unica invece che è stata effettivamente colpita ora prepariamo l'attacco finale aspettiamoci il barile ma andiamo a contare con l'altro nostro barile va bene così spacca muro i pistrelli fuori legge maina su princess andiamo barile barbarico spacca muro ricominciamo 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 i pistrelli fuori non riusciamo a entrare spinge anche lui e chiude bene chiude bene tutto raga come brutta questo questi due questi due cavalieri sono veramente bruttissimi la cale counter è buono proviamo un altro tacco alto la sotto sono entrati entrambi io voglio che il minor toga quella cazzo di princess perfetto la perdiamo la perdiamo parco giuda la perdiamo ci sta ci sta una partita combattuta una partita combattuta ci sta non si possono vincere tutte di fila però direi che quelle che abbiamo vinto prima li abbiamo dominate insomma ragazzi io spero che il deck che vi ho fatto vedere oggi vi sia piaciuto mi raccomando se volete altri video di clash royale un bel pollicione in su un commento qua sotto noi ci vediamo ovviamente al prossimo video ciao